Una prestazione eccezionale, ricordiamo che sono sette partite di fila che facciamo risultato utile e appena arrivata la notizia che la Virtus ha perso quindi siamo matematicamente playoff e quindi questa è una grande soddisfazione per tutti, per Marco in primis che ha creduto in questa squadra che l'ha costruita dal giorno 1, ha creduto in questi ragazzi, li ha portati a questo livello e quindi un plauso al nostro coach, un plauso ai nostri ragazzi perché stanno crescendo di partita in partita finalmente hanno preso consapevolezza dei loro mezzi e quindi grazie a tutti siamo arrivati a questo bellissimo risultato Pocherissimo dell'Amen che piega il Lucca al Palasport Estra, quinto successo consecutivo oltre alla salvezza porta dunque il pass per i playoff, il punteggio finale è di 78 a 69, termina dunque con gli applausi al Palasport Estra il turno infrasettimanale di Serie C Gold tra l'Amen Scuola Basket Arezzo e il Basketball Club Lucca gli Ammaranto vincono e ottengono un doppio obiettivo, adesso il calendario fitto di impegni non consente ancora di rifiatare domenica 27 marzo l'Amen sarà sul parquet della Synergy Valdarno per un derby dove l'Amen Scuola Basket proverà a prendersi la rivincita dopo la sconfitta dell'andata Tecnicamente forse siamo secondi a parecchie squadre, io sono sicuro di una cosa, che caratterialmente e a livello di gruppo non siamo secondi a nessuno, senza un bel dubbio Io devo essere sincero, ho sempre creduto in loro dall'inizio alla fine, sapevo che il risultato paga cioè il lavorare bene come facciamo io e il nostro preparatore Maraccini avrebbe pagato a lungo andare abbiamo avuto momenti di halo come tutte le squadre ma adesso siamo in grande fiducia e adesso per quanto mi riguarda viene il difficile perché continuare a vincere con le teste che si rilassano sono cose varie, c'è da lavorare sotto questo punto di vista perché loro non lo sanno ma sono un po' sfortunati perché hanno un allenatore che non può perdere, quindi fondamentalmente ci si rilassa, è giusto festeggiare tutto siamo ai playoff, siamo salvi matematici ma io sto già pensando alla Synergy Grazie